il nuovo babysitter di mia figlia hai portato il curriculum la vita senza amore dimmi tu che vita è lui è il coreografo del nostro pezzo e chiude il festival di sarai sul palco dell'ariston chiara è lei è lei guardami amore amore sei tu oh mio dio ma è l'emozione l'emozione dei tuoi occhi madonna raga oggi una di quelle giornatine non stop di lavoro o altre mille cose però molto tutto molto molto emozionante per ringraziarvi del disco d'oro raga siccome mi sono avanzate le cartoline della dolce vita ve le mando autografate e seleziono tra quelli che mettono like all'ultimo post